ben tornati sul canale youtube della società atletica tortre e teste oggi vi proporrò due esercizi per la parete dorsale il primo esercizio per la zona lombare e il secondo esercizio invece per la parte dorsale quindi per la parte leggermente più alta primo esercizio a corpo libero ci sdraiamo a terra corpo disteso braccia vicino le orecchie il movimento è di sollevamento contemporaneamente di braccia e gambe si scende giù e si inspira con il naso si sale e si espira dalla bocca questo esercizio può essere svolto anche in isometria quindi si può salire e tenere fissa la posizione quindi blocco la posizione in fase di salita e tengo così la posizione di blocco secondo esercizio è un esercizio che viene effettuato con l'ausilio di un sovraccarico in questo momento in casa potete avere delle bottiglie d'acqua piuttosto che qualunque oggetto sia utilizzabile per fare un movimento di trazione che cosa facciamo ci posizioniamo in ginocchio posizioniamo l'avambraccio sopra il ginocchio della gamba piegata l'altra gamba appoggia bene sul ginocchio peso a terra andiamo a tirarlo su portando il gomito verso l'alto torno giù a terra inspiro con il naso salgo su e butto fuori dalla bocca questo esercizio come prima può essere effettuato anche in isometria quindi bloccando il movimento e tenendo il muscolo in contrazione si lavora entrambi i lati quindi si andrà a fare un cambio e si andrà a lavorare anche l'altra parte e anche per oggi è tutto rimanete collegati al canale youtube della società atletica leggera d'oltre teste alla prossima